Ragazzuoli ci troviamo esattamente qui a nord di Parco Pacifico per completare la missione di guidare all'interno dei cerchi di fuoco Questa è la primissima location dove noi potremo lendare per appunto completare questa missione E semplicemente ragazzi, tac, è la missione come potete vedere qui dal manichino in carico epico settimana 2 verrà completata Sono tre cerchi da saltare Il secondo si troverà esattamente qui raga dove appunto vi sto pigando E dovremo semplicemente anche in questo caso passarci attraverso con una macchina qualsiasi che trovate in questo caso anche a Parco Pacifico O da qualunque altra parte Quindi ci passiamo in mezzo come potete vedere 2 su 3 Questa invece è la terza location che si trova esattamente sopra il Colossal Colossium Cioè il Colosseo e a sud est di costiere scogliere scoscese non mi ricordavo In ogni caso qua missione semplicissima Quindi ragazzi, urca per urca tutti, ci vediamo nel prossimo video